buonasera Lidio Gilluto e grazie per averci accordato ecco questo incontro dove parleremo un po di calcio di sport e degli italiani eh siamo in tempo di europei quindi sui social impazzano i commenti sulle partite sui giocatori ma in ambito professionale quanto il calcio si rivolge eh ad un mondo digitale anche attraverso la comunicazione ma allora guarda il calcio partiamo da questa premessa eh gli italiani ma come le persone di tutto il mondo hanno due due cose che li guidano no sono panem et circenses cioè la necessità di risolvere i propri problemi basilari eh e il bisogno di divertirsi in Italia i circenses sono assolutamente affidati al calcio che è lo sport più diffuso ma non è solo lo sport più diffuso è anche lo spettacolo più diffuso e questo di conseguenza porta una grandissima attenzione anche dei media e della comunicazione digitale rispetto al mondo del calcio eh qui potremmo fare un discorso lunghissimo quindi ti potrei tenere qui per ore eh a raccontarti del rapporto che abbiamo con i videogame del fatto che alcuni telecronisti debbano la propria fortuna certo al loro lavoro che hanno fatto molto bene sulle eh televisioni ma anche al fatto di essere diventati voci dei videogiochi no Pierluigi Pardo è un esempio eh da questo punto di vista e da poco l'abbiamo avuto ospite in un webinar in cui abbiamo parlato di di questo cosa però sta succedendo adesso adesso sta succedendo che eh probabilmente i circenses daranno una mano al panem cioè eh attraverso la come sai come sapete eh la possibilità probabilmente eh solo in digitale quindi esclusiva eh di vedere le partite del calcio di serie A che sappiamo sono per noi importantissime no il tema della settimana aspettiamo la domenica quasi solo per quello eh grazie al fatto che si potranno vedere solo in digitale noi vediamo una grandissima propensione in più degli italiani a dotarsi di una connessione internet ad alta velocità. Questo cosa significa? Questo significa che eh noi cercavamo no come paese un po' la killer app eh per diventare più digitali eh per digitalizzare più il paese migliorare le nostre connessioni. Probabilmente la risposta a questa domanda sarà ancora una volta il calcio. Ecco c'è un po' il luogo comune eh il pensiero tra le persone che questi strumenti di eh comunicazione digitale siano usati prettamente da giovani. Lei in qualità proprio di direttore dell'osservatorio eh nazionale sulla comunicazione digitale e anche vicepresidente dell'istituto Piepoli. Ecco nelle vostre ricerche è così? È realmente così? Oppure eh vanno a confutare questa tesi che ormai è un po' eh diffusa tra la popolazione? La tua domanda già contiene una parte della risposta e la tua analisi è assolutamente perfetta quindi la confermo eh certo c'è ancora un po' di digital divide è inutile negarcelo eh c'è una quota di popolazione che però non è solo quella di età più avanzata eh ci sono anche degli altri eh delle altre aree di digital divide nel nostro paese tra grandi e piccoli centri che hanno delle grandi differenze no? Di anche di infrastruttura digitale ci sono delle differenze e c'è un po' di digital divide però eh la differenza tra giovani iper digitalizzati e meno giovani eh assolutamente al buio eh da un punto di vista digitale non esiste assolutamente più. I canali digitali li vogliono utilizzare sì per vedere le partite per lo sport per i social per controllare eh se noi figli siamo ancora in vita visto che tendiamo a rispondere poco al telefono eh sì li vogliono usare eh naturalmente per questo ma li usano anche per eh motivazioni molto più eh complesse e anche molto più importanti. Noi abbiamo notato nell'ultimo anno con le ricerche che abbiamo fatto con l'osservatorio e quindi insieme anche a PA Social abbiamo notato che proprio i meno giovani sono i più appassionati ai servizi digitali forse perché hanno visto che la PA senza il digitale è sempre stata un po' più lenta di quello che volevano e invece pensano magari col digitale i servizi li otteniamo un po' meglio un po' più facilmente quindi la risposta è c'è ancora un po' di digital divide generazionale ma sicuramente la pandemia ha accelerato se è un piccolo effetto positivo l'ha avuto ha sicuramente accelerato il processo di digitalizzazione di quelle generazioni dimostrando che non c'è un tema antropologico non è che i meno giovani hanno meno capacità di usare il mezzo digitale sono meno abituati ma se diventano l'unico modo per avere qualcosa finiscono per usarli benissimo come tutti gli altri. Ottimo grazie Livio e speriamo di rivederci presto nelle nostre interviste di nuova comunicazione sempre a vostra disposizione grazie